Questa voglia di ricominciare non vedete veramente l'ora? No, non vediamo l'ora di fare bene perché dopo l'annata che io ho trascorso sei mesi, dopo un'annata storta, c'è voglia di ripartire, c'è entusiasmo, si lavora molto bene e avevamo voglia di fare una partita diciamo vera perché fino adesso tra Covid e per varie vicissitudini abbiamo affrontato squadre di bassissimo livello e di altre categorie inferiori. Oggi è stata una bella partita, ci interessava non tanto il risultato ma la prestazione per provare alcune cose in vista della partita con il Taranto e sono contento perché si vede una squadra compatta di là del risultato e di tutto il resto. Siamo contenti e non vediamo l'ora di iniziare. Il mister lavora tanto, poi diciamo che c'è molta qualità, ovviamente bisogna lavorare, oggi eravamo un po' imballati, abbiamo fatto quattro ore di pullman, una preparazione molto pesante quindi ci sta, però l'idea è quella di giocare in avanti perché ci sono giocatori che possono fare la differenza e l'importante è sacrificarsi tutti e poi per il resto secondo me faremo davvero bene. Guarda, io sinceramente dico le cose sempre come stanno perché non ho paura di sbilanciarmi. Tanti anni che non vedevo lavorare in questo modo, sia lo staff che l'allenatore ne spiegare alcuni concetti e portare avanti la sua idea. Sono davvero contento di iniziare, poi ovviamente c'è sempre il campo che parlerà ma io sono molto fiducioso per quello che verrà in futuro perché ripeto, quando si lavora si raccoglie quindi sono contento che abbiamo faticato, abbiamo fatto fatica anche perché abbiamo urlato un po' dietro al prof, però va bene così, siamo contenti, adesso ripartiamo come si deve.